Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale Oggi vi voglio far vedere una cosa Macchinuccia, pista 8 wheels Con le sue ruote, ok? Va benissimo sulla pista Macchinuccia 8 wheels senza ruote Oddio, adesso come facciamo? Non troviamo i componenti Bellissimo, ragazzi Vi dico di prendere quelle mollette un pochettino più larghe Queste Guardate Ho fatto nient'altro che unire i due punti di una mollettina comune Metterla a posto delle ruote E la macchina vi assicuro che andrà benissimo, ragazzi Perché l'ho provata Mio figlio l'ha persa Ha buttato le ruote giocando E non siamo riusciti a trovare dei pezzi Allora ho modificato nel frattempo Che mi arrivano i componenti con queste mollettine larghe Come vi ho fatto vedere prima E come vi faccio vedere ancora tuttora adesso Ora la verifica ve la faccio vedere sulla pista Per cui seguitemi e venite con me Questa è la pista, ragazzi Ora ve la mostro Guardate Ok Posizioniamo le due auto Come ben potete vedere La macchina Migiona benissimo Come l'altra Visto ragazzi